L'Europa di oggi non è riformabile dal mio punto di vista, bisogna abbatterla in toto e ricostruirla da capo. A Bruxelles non c'è niente di riformabile, c'è un gruppo di persone che hanno in odio i popoli e le economie italiane in particolare, quindi prima li abbattiamo, prima abbattiamo il nuovo muro di Berlino che è a Bruxelles e prima torniamo a lavorare e a competere. Questo è il quadro internazionale che non ci vede ostili a nessuno evidentemente perché siamo stati contattati da rappresentanze di tanti paesi al mondo, dagli Stati Uniti, alla Gran Bretagna, a Israele, quindi noi non abbiamo come tifosi di calcio, non tifiamo per Putin contro il resto del mondo, semplicemente riteniamo che in questo momento chi gioca alla guerra con Putin sia un deficiente e quindi in questo momento chi parla di schierare truppe NATO ai confini con la Russia vuole riportarci indietro di 30 anni in un clima di guerra di cui l'Europa sicuramente non ha bisogno, visto che purtroppo le guerre vere ci sono altrove, il pericolo non è la Russia in questo momento.